Premio 8 milioni, abbiamo qui i vincitori della canzone che sarà l'inno di questa stagione. Allora abbiamo con noi Guido Arbonelli e la signora Natalia Benedetti. Allora, bella soddisfazione, una canzone che quali temi tratta? Ma veramente non ce lo aspettavamo, perché è arrivata questa notizia dopo la nostra semplicissima partecipazione. Abbiamo mandato un bel testo, crediamo a questo concorso organizzato da Bruno Mancini e devo dire che abbiamo ricevuto questa bellissima soddisfazione. Sarà l'inno, infatti noi stiamo collaborando con l'associazione DILA in tutta Italia. Noi siamo clarinettisti, io sono insegnante al Conservatorio di Firenze, però come vedete stiamo collaborando appunto con l'associazione. Abbiamo mandato, come dicevo, questa proposta e è stata accettata con un bellissimo testo, perché il testo si intitola Girotondo di emozioni e parla del cuore verde di Ischia, che Ischia è una poesia, ti sorprenderai per la sua storia, eccetera, eccetera. Vuole essere una breve cronostoria della città di Ischia e delle emozioni che noi proviamo nel visitarla. Una fotografia dell'isola fatta con gli occhi di chi ama l'isola? Beh, la fotografia è senz'altro bellissima perché le emozioni sono molte. Questo Girotondo di emozioni rispecchia veramente quello che si vede e che vogliamo dire a tutti quelli che vogliono venire a Ischia, perché è piena di emozioni, di sorprese e di storia. Con questa associazione DILA siamo stati anche a Milano, a Book City, con Bruno Mancini ed altri artisti, poeti, e sono state presentate le poesie e anche brevi momenti musicali. E' quello che è successo un po' ieri sera nella piazzetta San Girolamo, dove io e il maestro Arbonelli abbiamo appunto dato un piccolo assaggio di tutto quello che era un po' successo a Milano. Invitiamo veramente tutti a seguire questo tipo di programmazione culturale dell'Associazione DILA perché veramente rispecchia il calore e la bellezza dell'isola. Il calore e la bellezza dell'isola che ricordiamo anche facendo un tuffo nel passato. Il professor Raffaele Sena. Assolutamente doverosissimo. Noi collaboriamo, io e Natalia, con le associazioni musicali del territorio fin dall'82. Allora c'era U-Professore dell'hotel U-Bristol, lo denominavano così, il nostro maestro Raffaele Sena, clarinettista, bandista, direttore e organizzatore anche di concerti. Un ricordo veramente particolarissimo perché ogni volta che passiamo andando verso il castello aragonese c'è sempre un bellissimo ricordo di questa figura che pubblicizzava l'arte non soltanto qui ma la esportava fuori, anche fuori dall'Italia. Veramente una persona grandissima.